Salmo 37 Non adirarti contro gli empi, non invidiare i malfattori, come fieno presto appassiranno, cadranno come erba del prato. Confida nel Signore e fa il bene, abita la terra e vivi con fede. Cerca la gioia nel Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore. Manifesta al Signore la tua via, confida in Lui, compirà la Sua opera. Farà brillare come luce la tua giustizia, come il meriggio il tuo diritto. Stai in silenzio davanti al Signore e spera in Lui. Non irritarti per chi è successo, per l'uomo che trama insidie. Desisti dall'ira e deponi lo sdegno. Non irritarti, faresti del male, perché i malvaggi saranno sterminati, ma chi spera nel Signore possederà la terra. Ancora un poco e l'empio scompare. Cerchi il suo posto e più non lo trovi. I miti, invece, possederanno la terra e godranno di una grande pace. L'empio trama contro il giusto, contro di Lui digrigna i denti. Ma il Signore ride dell'empio, perché vede arrivare il suo giorno. Gli empi sfoderano la spada e tendono l'arco per abbattere il misero e l'indigente, per uccidere chi cammina sulla retta via. La loro spada raggiungerà il loro cuore e i loro archi si spezzeranno. Il poco del giusto è cosa migliore dell'abbondanza degli empi, perché le braccia degli empi saranno spezzate. Ma il Signore è il sostegno dei giusti. Conosce il Signore la vita dei buoni. La loro eredità durerà per sempre. Non saranno confusi nel tempo della sventura e nei giorni della fame saranno saziati. Poiché gli empi periranno, i nemici del Signore appassiranno come lo splendore dei prati. Tutti come fumo svaniranno. L'empio prende in prestito e non restituisce, ma il giusto ha compassione e dà in dono. Chi è benedetto da Dio possederà la terra, ma chi è maledetto sarà sterminato. Il Signore fa sicuri i passi dell'uomo e segue con amore il suo cammino. Se cade non rimane a terra, perché il Signore lo tiene per mano. Sono stato fanciullo e ora sono vecchio. Non ho mai visto il giusto abbandonato, né i suoi figli mendicare il pane. Egli ha sempre compassione e dà in prestito. Per questo la sua stirpe è benedetta. Sta lontano dal male e fa il bene, e avrai sempre una casa, perché il Signore ama la giustizia e non abbandona i suoi fedeli. Gli empi saranno distrutti per sempre e la loro stirpe sarà sterminata. I giusti possederanno la terra e la abiteranno per sempre. La bocca del giusto proclama la sapienza e la sua lingua esprime la giustizia. La legge del suo Dio è nel suo cuore. I suoi passi non vacilleranno. L'empio spia il giusto e cerca di farlo morire. Il Signore non lo abbandona alla sua mano. Nel giudizio non lo lascia condannare. Spera nel Signore, segui la sua via. Ti esalterà e tu possederai la terra e vedrai lo sterminio degli empi. Ho visto l'empio trionfante ergersi come cedro rigoglioso. sono passato e più non c'era. L'ho cercato e più non si è trovato. Osserva il giusto e vedi l'uomo retto. L'uomo di pace avrà una discendenza. Ma tutti i peccatori saranno distrutti. La discendenza degli empi sarà sterminata. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Nel tempo dell'angoscia è loro difesa. Il Signore viene in loro aiuto e li scampa. Li libera dagli empi e dà loro salvezza. Perché in Lui si sono rifugiati. Il Signore viene dal Signore. Grazie a tutti.